amici di canale caccia.tv siamo a caccia village edizione 2022 sono con andrea gnagni 3a abbigliamento intanto ieri è stato un successo di pubblico finalmente la gente è tornata già a verona c'era stato un buon riscontro qui gli amici del centro sud italia ma parliamo della tua azienda andrea che sta crescendo di anno in anno prima l'abbigliamento poi le calzature e una completezza di gamma incredibile decine di modelli tutti quanti ti riconoscono una cosa hai tirato fuori un prodotto di alta qualità ad un prezzo ragionevole ma è la stessa cosa per le calzature andrea prendiamo fatte tutte in italia vulcanizzazione alta microporosa che ammortizza tantissimo suola ovviamente vibra ovviamente perché ce l'è una garanzia esatto allacciatura fino al puntale con tutte le varie regolazioni tutte le carrucole nella ferramenta per compattare bene il piede e fermarlo bloccarlo non si scolla mai non entra acqua un prodotto di elevatissima qualità a un prezzo come si diceva ragionevole rapporto qualità prezzo imbattibile sì chiaramente tutto questo avviene anche perché voi oltre che nel settore caccia avete una forte esperienza anche nel settore dell'autodoro io ti sono venuto a trovare su in azienda ragazzi non arrivavamo mai a quanti metri stai dal passo dal passo tonale siamo 20 minuti che passo gavia passo mortirolo passo aprica dove qualche giorno passerà anche il giro d'italia e dove osino le aquile senti una gamma veramente veramente ampia vediamo qui anche alle nostre spalle cioè veramente per tutti i gusti ci è fatto vedere un modello di alta visibilità ma anche vale alto è particolarmente resistente sento sia anche agli strappi alla ghetta alta tutta impermeabile in più all'interno a lo scarpone che anche quello tutto in pelle scamosciata con membrana impermeabile anche quello di modo che uno mette il suo scarpone lo allaccia si chiude tira alla sua ghetta è già a posto di tutto ve lo dicevo una crescita esponenziale dei prodotti straordinari vedo qui è un altro modello che non è alta visibilità ma è fiore scamosciata anche questa senza cuciture come tutte quelle caratteristiche tutto come ho detto senti ma quanto conta anche l'esperienza personale nel poter proporre questi prodotti perché chiaramente sia tu che tuo fratello ormai sono anni che siete sulla breccia caro mio per cui tanta l'esperienza una cosa fondamentale come tutti i lavori poi noi proviamo testiamo tutti i nostri prodotti prima di metterli al pubblico di darli di venderli sicché come gli scarponi come l'abbigliamento come le giacche come i pantaloni e tutto i vari tessuti vengono sempre testati vengono sempre sistemati perché comunque la vestibilità la calce e poi vengono venduti senti non ti lascio prima di spostarci in un'altra parte dello stand dove vediamo un attimo l'abbigliamento amici di canale caccia siamo passati nella parte legata all'abbigliamento diciamo un po il primo amore perché avete iniziato quanti anni è ormai che l'attività 10 anni che produciamo che produciamo il nostro marchio come 3a ma noi siamo storici perché già nostro padre o così c'è ancora anche lui tuttora che è dentro l'azienda la nostra forza diciamo e andiamo avanti sempre con novità e sempre in evoluzione insomma siete second generation come direbbero negli stati uniti facciamo però vedere alcuni di questi prodotti perché la gamma che avete è veramente notevole andrea per qualsiasi tipo di caccia cioè per qualsiasi esigenza noi vediamo e curiamo qualsiasi prodotto apposta per perché ognuno ha le proprie esigenze e ognuno fa la sua caccia questa per dire la linea nuova che abbiamo fatto tutta antistrappo è una nuova tipologia di kevlar che ha tutta la parte davanti in kevlar antistrappo con degli inserti poi elasticizzati per lasciar più liberi nei movimenti e questo è un ultimissimo prodotto che abbiamo che abbiamo sviluppato adesso come anche il gilet sempre alta visibilità per la situazione altre cose fatelo dire non so chi è il vostro designer ma sono anche belli da vedere oltre che molto pratici tutti noi ah esatto quelli prodotti in casa tutto made in italy allora l'80 per cento dei nostri prodotti si poi vedete l'onestà intellettuale vedete che roba ragazzi è serietà 80 per cento è tutto fatto in italia poi abbiamo un 20 per cento che comunque è sempre tessuto italiano però lo facciamo anche di importazione per 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 valutare le varie cose tasche ampie perché servono sempre per portare tutto anche il carniere molto ampio e fondo tutto il tessuto antistrappo sempre questo kevlar di nuova generazione esatto poi abbiamo ancora il nostro kevlar classico questo è il panzer che tutti gli anni diciamo lo cambiamo lo cambiamo lo cambiamo poi dopo la gente ve lo richiede e poi lo produttete chi lo prova non lo abbandona perché è come la coca cola questa è uscita una formula particolarissima è molto quindi squadra vincente andrea non si cambia creare una linea abbigliamento per la caccia come abbiamo detto anche per il discorso legato alle scarpe vuol dire avere anche l'esperienza sul terreno anche qui sì sì anche questi vengono tutti provati vengono tutti testati tutti i nostri tessuti perché bisogna essere perfetti nelle cose perché vogliano sempre cioè la gente vuole essere i nostri clienti vogliono essere contenti devono essere perché comunque nel bosco devi essere comodo pratico e qui avete portato tanto arancio di alta visibilità per gli amici del cinghiale ma questi modelli vanno bene anche nel bosco per la beccaccia o per la caccia vagante esatto per tutto ma vedo anche che avete dei dei prodotti in camu esatto una linea nuova questa è tridimensionale che c'è proprio il senso della profondità abbiamo fatto sia la sia il pantalone ma poi anche anche la giacca anche qui con le tasche tutte con le cerniere per non perdere nulla questo è un capo più leggero esatto per un movimento così che lascia traspirare tanto è antivento termoregolizzatore così sempre avendo dei rinforzi nelle parti più con maggiore abrasione bene ricordiamo il vostro sito internet perché molta gente vi vede durante le manifestazioni i fieristi che finalmente hanno cominciato a rivederci però chiaramente lavorate anche online sì esatto e 3a abbigliamento e augusto abbigliamento.it naturalmente la gente può anche acquistare online molto bene bene oppure se no se avete modo andate su vicino al tonale a trovarli perché sono delle persone squisite noi abbiamo avuto modo di visitare l'azienda il punto vendita ormai tre anni fa Andrea perché gli è passata di tempo caspiterina ci stiamo invecchiando e sono stati veramente delle persone squisite come è sempre stato il nostro rapporto bene io non posso altro che augurarti un in bocca al lupo enorme ma non ce n'è neanche bisogno perché immagino che sarete assaliti dai nostri amici i cacciatori che ormai vi conoscono da tanti anni hanno già provato i vostri prodotti e magari vogliono rinnovare un pochettino il guardaroba come si suol dire ormai i cacciatori sono un pochettino come le donne no bisogna curare i particolari e voi vedo che state sul pezzo Andrea ti lascio che stai organizzando ti ho beccato in questo momento prima ancora che aprisse la fiera amici perché poi era impossibile riuscirsi a vedere di nuovo ciao